Ha preso in via domenica 12 giugno la quarta edizione di Prospero Fest, cartellone di eventi di promozione culturale in programma a Monopoli fino a sabato 18 giugno. Per il secondo anno, in un periodo tra la primavera e l'estate, per essere ancora più accoglienti, turisticamente e culturalmente parlando, per tutti gli ospiti che arrivano nella nostra città. Una nuova location, il Porto Vecchio, fa da sfondo all'edizione 2022 della manifestazione, interamente organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Monopoli con la biblioteca comunale Prospero Rendella e in collaborazione con l'assessorato al turismo. Nomi altisonanti, molti giornalisti, però abbiamo anche una sezione, le stagioni di Prospero, curata da Nicola Laggioia con Vito Mancuso, uno spettacolo teatrale con Fabrizio Gifuni, Luca Telese, Tunica Pozzo. Insomma, ci sono veramente degli appuntamenti molto importanti, il filosofo Galimberti, chiudiamo con Nando dalla Chiesa, insomma, 13 appuntamenti da non perdere. A inaugurare la rassegna, un incontro con la giornalista e scrittrice Carmen Lasorella, dal titolo Un viaggio, per ricominciare tra sfide e minacce del nostro tempo. Pandemia, economia e guerra, un momento di riflessione sul ruolo del nostro paese nell'attuale scenario internazionale. Io ho vissuto la guerra, l'ho raccontata per vent'anni, e ogni volta l'elemento forte era la capacità di resilienza dei popoli. Nel caso della pandemia è vero che c'era un bisogno di non far diffondere il virus, però il messaggio è stato fermi, zitti, buoni. E questo non funziona, perché il capitale di un paese è quello umano prima di qualsiasi altro, e quindi va valorizzato. È stato un periodo orribile e purtroppo anche ora, nella crisi ucraina, si ripete il discorso di un'informazione ansiogena, di un'informazione eccessiva e confusa. A seguire sul palco del Prospero, lo scrittore Giovanni Impastato ha presentato, insieme a Marco Di Napoli, già procuratore capo del Tribunale di Brindisi, il libro Mio fratello, tutta una vita con Peppino, pagine inedite dedicate a un ragazzo, diventato simbolo della lotta alla mafia.